Siamo con Dimitri e Raffaella che hanno ricevuto il diploma e cerchiamo di capire con loro che prospettive hanno e perché hanno voluto fare questo Master. Raffaella, parto da te. Allora, cosa ha significato per te? È stato impegnativo e cosa vorrai fare da grande? È stato un Master impegnativo perché è durato un anno, erano molte ore di lezione, però mi ha lasciato un ottimo bagaglio sia di conoscenze dal punto di vista tecnico che anche di conoscenze umane, gli altri studenti, i professori, eccetera. È stato veramente importante per me. Ho potuto quindi apprendere competenze nuove, utili per il mio lavoro quotidiano e per sviluppare ulteriori progetti. Ho apprezzato anche la partecipazione di diversi corsisti da altre realtà, anche fuori regione, perché ci hanno portato la loro testimonianza e tutti assieme comunque abbiamo lavorato e condiviso esperienze per valorizzare le nostre montagne. Raffaella, ma questo Master lo consiglieresti e se sì a chi? Lo consiglierei assolutamente alle persone che sono interessate allo sviluppo della montagna, ma non solo perché le competenze che ci sono state trasmesse coprono una vasta gamma di ambiti, perciò la progettazione sia europea che locale con un input particolare alla montagna, ma non solo. Quindi c'è molto spazio per questa tipologia ancora di lavoro, ci sono poche persone formate, quindi io in tutta sincerità mi sento di suggerire a chi ha voglia di entrare in questo mondo, di provare con il Master dell'Unimont. Dimitri? Anche io mi sento di consigliarlo sia a chi già lavora in montagna come me o comunque a chi vuole avvicinarsi al mondo della montagna dando un suo contributo. Sicuramente Unimont è un partner affidabile in questo perché da anni posso testimoniarlo, fa formazione di qualità per la montagna e per chi vuole investire e lavorare appunto in montagna. È un master innovativo perché tratta il tema del project management per lo sviluppo sostenibile dei territori montani, quindi in sostanza imparare a costruire progetti che vengano poi finanziati dai vari programmi europei, nazionali, regionali, locali, gestiti sul territorio da professionisti che vivono e operano in montagna. Questa visione di un sistema accademico, universitario che sia in grado di presidiare i territori, anche al di là del centro, è vitale per la competitività del paese perché le risorse non sono soltanto nei centri, anzi, e quindi è una partita di futuro innovativa, ma innovativa davvero, e quindi bisogna lavorare insieme per dare delle risposte che è tempo che arrivino.